In riferimento alla manifestazione che si terrà il 12 ottobre prossimo a Roma in rivendicazione dell'autonomia e dell'indipendenza italiana dall'Europa, ci tengo a precisare che mi dissocio fin d'ora da tutte quelle strane forme di associazione, partiti o movimenti più o meno estremistici che si stanno associando a questa manifestazione in qualche modo cavalcandola. Si era detto sin dall'inizio che sarebbe stata partitica, che l'unica bandiera tollerata sarebbe stata quella italiana. Io continuo a rimanere di questo avviso, anzi addirittura come ho già fatto rinnovo, anche se a titolo personale, l'invito per tutti coloro che non saranno in grado nella possibilità di presentarsi fisicamente alla manifestazione a Roma. Siamo a quel giorno, il 12 ottobre, di esporre la bandiera italiana sui propri balconi, sarà secondo me un segnale fortissimo, ma sono assolutamente contrario a considerare quell'obiettivo di una maggiore autonomia dall'Europa da ottenere ad ogni costo, pur addirittura accettando compromessi o alleanze con movimenti estremistici. Anzi, rifuggo da qualsiasi estremismo e la stessa Europa non l'ho mai considerata come un valore negativo di per sé, ma semmai come un aspetto positivo, un fattore molto positivo, qualora si traduca in una forma di alleanza tra nazioni, tesa alla pace, alla crescita di tutti e non al controllo di alcuni su tutti gli altri. Quindi di per sé non vedo nulla di male, ma non è tanto lo strumento Europa, secondo me, il problema, ma il modo con cui viene utilizzato. Quindi con quella moderazione che mi ha sempre contraddistinto, vi dissocio ufficialmente da tutti questi partiti che poi hanno anche un proprio logo ben particolare, colori particolari, bandiere, e che mi fanno un po' paura soprattutto nell'associarsi a questa manifestazione che dovrebbe essere quella degli italiani che vogliono la loro indipendenza e che dovrebbe tenersi lontana da qualsiasi ismo di qualsiasi tipo, mi dissocio a queste condizioni, cioè in una totale indipendenza da qualsiasi schieramento e rivendicando una totale mancanza di collegamento con qualsiasi movimento, soprattutto di tipo estremistico particolare, ribadisco a queste condizioni il mio appoggio alla manifestazione del 12 ottobre a Roma.